Vorrei vedere le persone come persone, pensare a loro come storie, piccoli piaceri, le loro gioie più grandi, le delusioni, i successi. Io mi chiamo Fei, il mio padre adottivo, Vushifu, e mi avrebbe nominata nuovo guardiano. Adesso ero l'unica che poteva proteggere il segreto della caverna nella prossima Eclissi Magica.